No, non parlerà domani, vi ho detto parlerà al prossimo Consiglio utile, che non sia ovviamente il bilancio. No, non ho detto parlerà domani. Consigliere, non mi mette in bocca. Se non viene accettata voglio che venga messa a verbale dichiarazione mia del suo lavoro. Questo non me lo dovete permettere. Una comunicazione, scusate perché qua parla bene, al punto 8, nelle adunanze nelle quali vengono discussi bilancio preventivo, conto consuntivo, bilancio consolidato, il piano regolatore e le sue varianti generali non è scritta all'ordine del giorno, la trattazione delle interrogazioni. Punto. Interrogazioni, non comunicazioni. La trattazione significa anche la risposta a una interrogazione. No, 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 trattazione delle interrogazioni non è un'interrogazione, facciamo prima se la facciamo sta cosa e ci riusciamo. Io la devo mettere ai voti. Perché altrimenti voi dovete mettere a verbale la mia dichiarazione. Esatto, quindi allora se io dovesse applicare il regolamento, consigliere Cardillo, non dovrei nemmeno fargli parlare in questo momento quello che stanno dicendo i consiglieri, se lei lo sa. No, no, perché stiamo rispondendo perché lei... Le sto dando anche la possibilità, ieri al consigliere, le ho dato la possibilità di parlare, ha iniziato esordendo al consiglio di giorno 24 l'interrogazione. Allora, lei deve essere garante... Silenzio, lei deve chiedere la parola, deve chiedere il permesso prima di parlare. Allora, facciamo che stasera, siccome c'è il bilancio, non c'è nessuna comunicazione. E poi potete scrivere a chi volete voi. Le chiedo cortesemente che vengono messe agli atti le parole che sto dicendo. Certo, assolutamente. Le chiedo scusa, avevo detto che doveva essere messo agli atti le due paroline. No, su questo argomento... Allora, consigliere, se il bilancio... Basta, basta con questo teatrino. Se il bilancio può dirlo, altrimenti non può fare l'intervento. Basta, basta, no, lei ha fatto un diniego. Posso segretario? Non può parlare oltre il fatto che non sia il bilancio, mi dispiace. Ma non è così. Già le ho dato anche abbastanza spazio su questo argomento. Ma ha dato abbastanza spazio, la ringrazio, signor Presidente. Perché nemmeno ci doveva essere questa discussione. A Hitler! Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Ma si vergogni, si vergogni, si vergogni quello che ha detto stasera. Signor Presidente, lei deve... Metta a verbale quello che ha detto il consigliere, per favore. Lei deve dare spazio ai consiglieri. Non può decidere di fare quello che vuole. Signor Presidente, non può decidere. Lo capisce? Io le ho dato già abbastanza spazio. Io sto chiedendo un mio diritto, quello di mettere a verbale la mia dichiarazione. Non gliela posso permettere questa. La mia dichiarazione, signor Presidente, guardi che ho diritto. Basta. Non glielo posso permettere quello che ha detto. Mi dispiace. No, no, è lei che ogni volta... No, mi dispiace. Verrà messo anche agli atti, mi dispiace. Perché, signor Presidente, lei fa il ducetto. Mi dispiace, quello che ha detto lei stasera è grave. E verrà messo agli atti, mi dispiace. Fai il ducetto. Questa espressione non gliela consento. Lei gestisce questo consiglio comunale a suo piacere e gradimento. Non gliela consento quello che ha detto. Capito, a suo piacere domicilio... Venga messo agli atti che lei oggi, scusi, non ha fatto applicare il regolamento del Consiglio Comunale. Deve essere messo agli atti che non ha fatto applicare un regolamento. Il regolamento dice che la comunicazione che ha fatto... Comandante, mi scusi. ...e la comunicazione non deve essere prima esaminata dal signor Presidente del Consiglio. Comandante, chiedo il suo aiuto, per favore, se può fare smettere il consigliere. Ah, oggi abbiamo... Sì, sì. Perfetto. Sì. Vabbè. Cosa... Non può fare... Non mi può mandare via... L'espressione così infelice... Non mi può mandare via perché non fa applicare il regolamento. Non fa applicare il regolamento, non mi può mandare via. Ma chi è lei? Mi scusi, fuori, vado fuori. Vada fuori, vada fuori. Dico, Bruno, dal pubblico, per cortesia. Sospendiamo la seduta, 5 minuti, la sospendo io la seduta.